Far nascere dal seme di una mela una piantina è davvero semplice, ci occorrerà solamente una mela, prenderla, tagliarla in due e ad andare a prelevare i semini che stanno all'interno. Eccoli qua, semplicissimo da fare. Noi dobbiamo prendere il semino e fargli il processo della vernalizzazione, come si fa in modo velocissimo? Adesso ve lo spiego. Si prende una vaschetta di queste con il contenitore, con il tapper metico, si ritaglia un piccolo tovagliolino da riporre sotto alla vaschetta, si inumidisce leggermente e si ripongono all'interno i semi di mela, quindi si ripongono un paio di semi e si va a porli poi la vaschetta in frigorifero, però prima di porla in frigorifero noi dobbiamo posizionare sopra ai nostri semini, mettiamocene solamente due, va sopra ai nostri semini un altro tovagliolino in questo modo qua e poi rinumidiamo leggermente, non esagerate, in questo modo qua. Ora chiudo e vado a mettere nel reparto delle uova, nel frigorifero, nel posto in alto. Questi sono i risultati dopo solo dieci giorni, guardate qua che belle radichette che hanno fatto questi semi di melo. Adesso prepariamo un vasetto con un terriccio molto drenante, eccoci qua, facciamo una piccola fossetta al centro del vasetto, profonda circa un centimetro, ed andiamo a prendere un solo seme, quindi un seme per ogni vasetto. Lo prendiamo con un paio di pinzette, non toccate mai con le dita, eccoci qua, e riponiamo il nostro semino con la radichetta verso il basso, in questo modo qua. Ricopriamo tutto pian piano, togliamo qualche sassetto di argilla, eccoci qua. Adesso annaffiamo abbondantemente, riponiamo adesso il nostro vasetto in un punto, anche all'interno di casa, dove c'è luce ma non sole diretto, non facciamo battere il sole sul vasetto altrimenti si asciuga velocemente il terriccio e potrebbe soffrire un po' la nascita della piantina. Dopo cinque giorni dalla semina inizia a spuntare la piantina, eccola qua. Questa è la piantina che ha solo venti giorni e sta crescendo su bella fresca e rigogliosa, ma per dare buoni frutti dovrà essere innestata. Fatela crescere ancora un altro po', poi la potete travasare in un vaso più grande o piantare in piena terra. Decidete voi cosa volete farne. Spero che anche questo video sia stato utile, ragazzi mi raccomando sempre in gamba, sempre prodotti bio, ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!